Che ringrazio per essere qua e ringrazio anche i delegati all'orientamento del nostro corso di laurea in ingegneria meccanica triennale, delegati all'orientamento che sono appunto il professor Daniele Fiaschi, che seguirà soprattutto l'orientamento degli studenti dei percorsi a plurale energia, il professor Gabriele Maria Losito che si occuperà invece dei percorsi relativi all'elettrica automazione e il professor Federico Rotini che invece si occuperà dei percorsi di meccanica. Quindi questo incontro direi e il video corrispondente vogliono essere praticamente un supporto ai nostri studenti di ingegneria meccanica per la compilazione dei piani di studio. Come ho detto qualche minuto fa quando non era partita la registrazione, l'idea è di fornirvi delle informazioni di carattere operativo barra tecnico, ma anche e soprattutto dei suggerimenti per la compilazione, quindi per la selezione degli esami. Allora innanzitutto cominciamo a dire dove si trovano le informazioni relative ai piani di studio. Le informazioni che riguardano la compilazione dei piani di studio si trovano nella pagina dedicata della scuola. Quindi nella pagina web della scuola, sotto scuola, didattica, poi andate al link piani di studio. Attenzione, ovviamente ad oggi la pagina web dedicata alla compilazione dei piani di studio non è aggiornata con le informazioni e le date relative alla prossima finestra che si aprirà per la presentazione dei piani di studio che è tipicamente nel periodo autunnale. Le date sono in via di definizione, così come le modalità e pertanto verranno rese note, direi dopo la pausa estiva, nella pagina insieme chiaramente a quelle che sono le informazioni relative. La raccomandazione è quella di leggere attentamente le informazioni che vengono date in questa pagina, perché molto spesso queste informazioni sono esaustive, quindi non avrete bisogno, diciamo, di, come dire, non sbaglierete anche nella compilazione del piano, nei tempi e nei modi. Comunque sia, per qualunque tipo di supporto, di tipo amministrativo potete far riferimento al primo link, alla scusate, alla prima indirizzi mail che vi ho messo, per supporto di tipo di dati potete far riferimento a me, che sono appunto la referente del corso di studio, ma potete soprattutto far riferimento, e vi invito a far riferimento ai delegati all'orientamento che poi parleranno dopo di me. Ed infine, se ci dovessero essere delle problematiche di carattere informatico, potete fare ovviamente riferimento a quello che è il servizio di helpdesk. Cominciamo allora subito però col dire che cos'è il piano di studio. Nel piano di studio si trovano praticamente tutte le attività formative che ciascun studente deve svolgere e superare per conseguire la laurea. Questo è cosa significa? Significa che all'interno del piano di studio ci sono gli insegnamenti, i lavoratori, gli eventuali tirocini, c'è il test di conoscenza della lingua straniera e chiaramente c'è anche la prova finale. Le attività obbligatorie sono tipicamente uguali per gli studenti che appartengono allo stesso percorso e alla stessa coorte. Il concetto di coorte è molto importante per uno studente universitario. E cos'è la coorte? La coorte è l'insieme degli studenti che in un dato anno accademico si sono iscritti per la prima volta al corso di studio. Se uno studente proviene invece da un passaggio, da un altro corso di studio, da un trasferimento, da un'altra università, oppure ha fatto per esempio domanda per l'abbreviazione di carriera, a quel punto lo studente potrebbe essere ammesso ad un anno di corso successivo al primo. La sua coorte sarà quella corrispondente agli studenti dello stesso anno. Fate attenzione, nel sistema di gestione delle carriere degli studenti, la coorte concide con l'anno di regolamento. Quindi tutti gli studenti che appartengono alla stessa coorte, allo stesso percorso, hanno uguali attività obbligatorie. Nel piano di studio però andranno a finire anche quelle che si chiamano gli insegnamenti a scelta libera. I quali insegnamenti a scelta libera sono due per tutti i percorsi in cui si articola il corso di laurea in ingegneria meccanica e sono in tutti i casi previsti al terzo anno. Questi sono insegnamenti o comunque attività proposte dallo studente e quindi devono essere scelte presentando il piano di studi. Chi presenta il piano di studi? Il piano di studi lo presentano di fatto tutti gli studenti, generalmente all'inizio del secondo anno di corso. Quando si presenta? Tipicamente si presenta nel periodo autunnale, cioè una prima finestra, e una seconda finestra è nel periodo primaverile. Le date, come ho già detto prima, sono disponibili nel sito della scuola quando questo sarà ovviamente aggiornato per il prossimo anno accademico e insieme alle date troverete le modalità con cui il piano di studio può essere presentato, di cui parleremo a breve, ma troverete anche che queste modalità sono differenti a seconda della corte alla quale lo studente appartiene. Per questo è importante che voi abbiate contezza del concetto di corte. Tipicamente, come ho detto, il piano di studi si presenta all'inizio del secondo anno. Questo cosa significa? Che a settembre del 2024, cioè tra un paio di mesi, dovrebbero presentare il piano di studi gli studenti che appunto a settembre del 2024 si iscrivono al secondo anno. Tuttavia questo non è, diciamo così, una condizione necessaria. Mi spiego, se uno studente non ha presentato il piano di studi all'inizio del secondo anno, non ci sono grossi problemi, ovvero lo studente può comunque sostenere gli esami a scelta libera. Questi chiaramente però non andranno in carriera. Entreranno nella carriera dello studente dopo che lo studente li ha inseriti nel piano di studi ed il piano di studi è stato approvato. Cosa significa questo? Significa, ad esempio, se uno studente ha per esempio una borsa di studio e sostiene un esame che non è nel suo piano di studi, quell'esame non conta ai fini dell'erogazione della borsa di studio, perché quell'esame entrerà in carriera solo dopo che l'esame si trova nel piano di studi. Spero di essermi spiegata. Considerate anche che se al secondo anno voi fate un piano di studi e poi vi accorgete, diciamo così, che le scelte che avete fatto non vi convincono fino in fondo, il piano di studi può essere cambiato nella finestra, diciamo, che si potrà successivamente. Tenete anche conto che se siete degli studenti vicini alla laurea, cioè i studenti cosiddetti laureandi ai quali mancano tipicamente uno o due esami, questi praticamente possono cambiare il piano di studi in qualunque momento. Vedremo anche questo come. Quindi, come si presenta il piano di studi? Per la presentazione del piano di studi ci sono di fatto due modalità. Una è la modalità online e l'altra è la modalità cartacea. Osservate che cartaceo è tra virgolette perché in realtà non si fa un modulo cartaceo, ma si riempie praticamente un Google Form. Allora, cominciamo dalla modalità online. Come si accede alla modalità online? La modalità online è disponibile su GCS. Vi ricordo che GCS è praticamente l'acronimo di gestione carriere studenti. Quindi, da SOL, ovvero dai servizi online del sito di Ateneo, andate su GCS e qui effettuate praticamente il login con le vostre credenziali. A quel punto, attraverso il percorso menu, piano di studio, piano cartiera, si entra nella pagina dove sono visualizzate le informazioni relative al piano di studi. E a quel punto che cos'è che si può fare? A quel punto quello che si può fare è modificare il piano di studi, se abbiamo già un piano associato, compilare un piano di studi, se lo studente non ha alcun piano di studi associato, e anche scegliere il percorso, se questa scelta non è stata ancora fatta. A quel punto si può procedere praticamente con la compilazione del piano. Attenzione! La compilazione del piano, al momento in cui la finestra è attiva, sarà possibile solo per quelli studenti che hanno rinnovato l'iscrizione, in questo caso, per l'anno accademico 24-25. Fino a che, cioè, non avete pagato anche la prima rata delle tasse universitarie, non avrete modo, diciamo così, di presentare il piano di studi. Quali sono le coorte di studenti per le quali è prevista una presentazione online del piano di studi? Le coorte sono quelle, praticamente, che trovate elencate sopra, ovvero, sotto, scusate, ovvero studenti immatricolati nel 2023, che nel 24-25 si troveranno, quindi all'inizio del secondo anno, studenti immatricolati nel 2022, e anche studenti immatricolati nel 2021. Cioè, per gli studenti, quindi, che appartengono alle corti 23, 22 e 21, è possibile presentare il piano di studi online. I due asterischi si riferiscono al fatto che per gli studenti del 23 e del 22 è possibile, diciamo così, compilare dei piani di studi che poi saranno, diciamo, soggetti a quella che si chiama un'approvazione automatica, che vedremo tra un attimo. Eccoli qua. Quindi, io sono uno studente che appartengo a una delle corti per le quali è possibile presentare il piano di studi online e decido di presentare un piano di studi ad approvazione automatica. E cosa vuol dire che io ho un piano di studi ad approvazione automatica? Significa, di fatto, che questo piano di studi non richiede la valutazione da parte della commissione. Perché? Perché è approvato automaticamente al momento in cui lo studente conferma il piano di studi e lo chiude. Un piano di studi di questo tipo entra immediatamente in carriera. Quando è che è possibile, diciamo, perché ci sono dei piani di studi ad approvazione automatica? Quali criteri devono soddisfare? Un piano di studi ad approvazione automatica contiene delle attività che sono praticamente state scelte da un paniere che è praticamente il paniere delle attività barra insegnamenti consigliati dal corso di laurea. Insegnamenti consigliati dal corso di laurea che voi trovate nella guida dello studente, guida che sarà ovviamente quella relativa alla vostra corte di matricolazione. Quindi se voi scegliete come attività a scelta libera quelle che sono state in qualche modo, diciamo, pensate per una formazione, come dire, completa per il vostro percorso, a quel punto il piano di studi è un piano, un'approvazione automatica e quindi vi entra automaticamente in carriera. Cosa succede invece se io vado a scegliere degli insegnamenti che non sono quelli consigliati? Se io vado a scegliere degli insegnamenti che non sono consigliati, il vostro piano di studi a quel punto sarà valutato da parte di una commissione. Può essere respinto e a quel punto dovrà essere ripresentato e chiaramente i tempi un pochino si allungano perché chiaramente un piano di studi di questo tipo entrerà in carriera solo dopo l'approvazione. Il punto qual è? Il punto è che gli studenti che presentano un piano di studi di questo tipo possono scegliere l'insegnamento a scelta libera da quella che si chiama l'intera offerta di Ateneo. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi potreste mettere nel vostro piano di studi come insegnamenti a scelta libera che sono di fatto praticamente due, filologia romanza, per dirne una, e scienza delle nutrizioni. A quel punto il vostro piano di studi arriva a me e io mi chiedo cosa ha a che fare la filologia romanza con la figura di un ingegnere meccanico e viceversa. Un studente di lettere chiaramente e ci mette un esame di analisi matematica uno si chiede che cosa ha a che fare. Quindi diciamo ovviamente gli esami a scelta libera come vedremo tra un attimo sono effettivamente a scelta libera ma devono essere diciamo così i loro contenuti devono essere congruenti con quella che è praticamente la figura professionale che il corso di laurea intende formare. Quindi ovviamente non possono essere scelti esami che sono al di fuori di quella che è diciamo così il paniere degli esami ovvero che forniscono poi le conoscenze e le competenze che sono tipiche per un ingegnere meccanico. Quindi una volta che noi abbiamo sottoposto su GCS il piano di studio online il suggerimento mi raccomando è quello di stampare al termine della compilazione il file pdf del piano e controllarlo. Perché? Perché una volta che viene data la conferma di presentazione il piano non è più modificabile. altra attenzione da apporre è al fatto che per le lauree triennali lo studente deve diciamo mettere insieme tutta una serie di attività che ammontano a 180 CFU. Se i CFU sono maggiori di 180 verificate che effettivamente questa scelta sia una scelta di tipo consapevole. Attenzione se al termine della compilazione del piano questo non viene confermato il piano rimane in bozza e quindi di fatto non viene valutato. Passiamo adesso dal piano di studio online al piano di studio cosiddetto cartaceo che in realtà cartaceo non è si tratta di riempire un Google Form. Quali sono diciamo così gli studenti che sono tenuti a presentare un piano cartaceo e non online? Chiaramente sono tutti quegli studenti che non appartengono alle corti nel caso specifico 23, 22, 21. Sono studenti che diciamo si provengono da passaggi piuttosto che da trasferimenti o studenti che hanno chiesto appreviazioni di carriera. Sono per esempio laureandi che hanno già un piano di studio cartaceo presentato. Sono studenti che hanno svolto una mobilità Erasmus oppure ancora studenti che hanno già presentato un piano cartaceo oppure che ha un piano individuale approvato. Come si presenta un piano di studi cartaceo? Un piano di studi cartaceo si presenta compilando un Google Form nel quale lo studente deve riportare gli esami da inserire eventualmente quelli da rimuovere e mi raccomando anche riempire un campo note per motivare la ragione della modifica per esempio richiesta oppure dell'inserimento della modifica per scusate un campo note in cui riportare per esempio le ragioni dell'inserimento di un esame che magari non è un esame tra quelli consigliati che trovate in guida dello studente. Lo stesso campo note è disponibile anche quando gli studenti sottomettono con un piano di studi online quindi mi raccomando tenete conto che dovete in qualche modo motivare le vostre scelte. Qui c'è una paginetta dedicata ai laureandi i laureandi possono praticamente modificare il piano di studi anche al di fuori dei periodi stabiliti dalla scuola che vi ricordo sono tipicamente nel periodo autunnale e nel periodo primaverile lo possono diciamo cambiare con quella che si chiama una procedura di urgenza e qui ci sono praticamente tutte le informazioni che servono per appunto chiedere una modifica del piano di studio con urgenza perché si è appunto prossimi alla laurea. Veniamo adesso a qualche diciamo di dritta suggerimento di carattere generale e poi dopo lascerò tra un attimo la parola ai miei colleghi si diceva che nel piano di studi vanno a finire quelli che sono l'insegnamento a scelta libera che vengono giusto appunto scelti dallo studente l'insegnamento a scelta libera lo dice la parola il termine stesso sono a scelta libera ma chiaramente devono essere coerenti con il progetto formativo con il percorso formativo quindi praticamente se la scelta non dovesse ricadere tra quelli proposti appunto per il vostro corso di laurea è come vi ho già detto fondamentale usare il campo note per dare una motivazione della ragione per cui si è apprezzato di mettere quell'esame nel piano di studi e tipicamente diciamo gli insegnamenti che vanno a finire nel piano di studi dovrebbero essere insegnamenti del primo livello ovvero della laurea triennale e non del secondo livello ovvero delle lauree magistrali vuoi perché spesso gli studenti non hanno ancora acquisito gli strumenti necessari diciamo per come dire usufruire appieno dell'insegnamento vuoi perché molto spesso questi insegnamenti scelti dagli studenti nella laurea magistrale magari sono degli insegnamenti obbligatori e quindi si creano diciamo delle situazioni che poi vanno comunque sanate nel percorso magistrale non possono essere insegnamenti il cui peso in termine di 3 CFU è inferiore a 6 e chiaramente non devono avere contenuti che si sovrappongono con insegnamenti già presenti nel percorso neppure parzialmente perché a quel punto ovviamente il totale dei CFU sarebbe diciamo inferiore rispetto a quello necessario quindi attenzione alla scelta se avete dei dubbi fate sempre bene a diciamo così consultarvi voi con i delegati all'orientamento quindi il professor Dottini il professor Lositio il professor Fiaschi ma anche con i tutor di orientamento che la scuola vi mette a disposizione immaginiamo adesso di aver presentato il piano di studi e di averlo presentato online quindi di essere diciamo così rispondenti alle caratteristiche dello studente che può presentare il piano online se io ho deciso di presentare un piano online ad approvazione automatica cioè ho fatto la scelta degli insegnamenti all'interno del paniere che mi è stato diciamo indicato nella guida dello studente relativa alla mia corte questo entra immediatamente in carriera se io invece ho fatto la scelta di mettere all'interno del mio piano di studi degli insegnamenti che non sono quelli in qualche modo suggeriti per un completamento armonico della mia formazione nella guida dello studente a quel punto il piano di studi online viene esaminato dal referente cioè tipicamente lo esamino io se il piano è ok lo approvo o altrimenti posso pensare di respingerlo in entrambi i casi lo studente riceve un'email chiaramente al suo indizio di posta istituzionale se io lo approvo va in carriera con lo status approvato se respinto chiaramente lo studente deve presentarne un altro entro la scadenza del periodo di ripresentazione che è indicata chiaramente nella pagina web dedicata della scuola immaginiamo invece di aver fatto un piano di studi cartaceo il piano di studio cartaceo ha chiaramente diciamo così dei tempi un pochino più lunghi perché ovviamente viene sì valutato dal referente cioè di nuovo lo valuto io però poi in ultima analisi deve essere approvato nell'ambito di quello che è il comitato per la didattica quindi chiaramente la sua approvazione è legata anche al calendario delle riunioni del comitato per la didattica una volta approvato la delibera viene gestita dalla segreteria studenti per la registrazione in carriera quindi voi immaginate che con tutta la buona volontà e l'efficienza della nostra segreteria studenti sono dei tempi abbastanza diciamo così sono dei tempi un po' lunghi che sono indipendenti dalla volontà del personale ovviamente ma sono legati alla mole di registrazioni manuali da dover fare chiaramente se il piano di studi cartaceo tra virgolette viene respinto lo studente è informato via email e chiaramente ne dovrà presentare un altro entro le date di nuovo riportate sul sito della scuola e ora io lascerei la parola al professor Federico Rottini che è il delegato all'orientamento per i percorsi al plurale meccanici prima di lasciare la parola a professor Rottini vorrei dire questo questa presentazione è stata diciamo così pensata per gli studenti che nel 24 25 iniziano il secondo anno e quindi di fatto per gli studenti che hanno iniziato appartengono di fatto alla corte 2023 e quindi sono studenti che appartengono a dei percorsi a parte il meccanico scientifico che hanno diciamo così la declinazione formativo ed applicativo vi ricordo che l'applicativo a differenza del formativo vede 12 cfu di tirocinio da fare nel terzo anno se ci sono degli studenti immatricolati negli anni precedenti non si devono perdere d'animo perché le indicazioni sono assolutamente di carattere generale e poi comunque siamo a disposizione per delle domande grazie Federico grazie a tutti e mi dici quando devo girare le slide e io le muovo grazie Paola allora buonasera a tutti dunque come certamente sapete saprete il percorso meccanico scientifico è un percorso un po' particolare perché ha come obiettivo quello di riuscite a sentirmi ti sentiamo ti sentiamo bene dicevo ecco qui piovono pollici verso l'alto dunque quindi dicevo il meccanico scientifico è un percorso formativo un po' particolare rispetto agli altri perché ha come obiettivo quello di fornire una preparazione che è orientata non solo a poter agevolmente accedere alle lauree di secondo livello quindi alle lauree magistrali ma anche in prospettiva fornisce una preparazione robusta di base per andare oltre le lauree di primo livello preparazioni sono anche un pochino più specialisti e quindi anche guardando diciamo dottorato di ricerca o comunque impiego in ambiti e riguardano più attività di ricerca che non attività tradizionali da ingegnere e quindi in questo contesto in questo ambito fate sempre allora premessa generale fate sempre riferimento alla guida dello studente voi dentro la guida dello studente troverete per ciascun percorso meccanico scientifico piuttosto che meccanico applicativo formativo piuttosto che gli altri che i colleghi Fiaschi lo zito vi diranno a breve insomma diciamo sono presenti all'interno della guida troverete sempre delle tabelle delle tabelle che riassumono diciamo degli esami consigliati da cui potete fondamentalmente pescare per personalizzare il vostro il vostro piano di studi come vi ha detto anche la professoressa Paoli ecco nell'ambito del percorso meccanico scientifico quindi questa tabella che cosa vi suggerisce vi suggerisce di sostanzialmente irrobustire la vostra preparazione più che altro relativamente alle materie di base quindi alle materie che appartengono diciamo all'ambito della matematica e della fisica proprio in virtù dell'obiettivo che ha il percorso meccanico scientifico e che abbiamo brevemente riassunto prima in più c'è una primarità per lo studente perché nel caso in cui i 12 CFU a scelta con cui andate a personalizzare il vostro piano di studi ricadano esattamente all'interno del pacchetto indicato quindi nella tabellina che viene suggerita all'interno della guida studente il pacchetto indicato di esami voi avrete cioè voi coloro che decideranno di fare così ovviamente avranno da regolamento verrà riconosciuto tendenzialmente una primarità aggiuntiva nel calcolo finale del voto di tesi tendenzialmente ok premessa ancora diciamo il suggerimento è sempre quello di pescare piani e gli esami per personalizzare il piano di studi dalle tabelle che sono presenti in generale appunto che trovate nella guida dello studente nessuno però vi vieta di andare anche oltre a queste tabelle quindi inserire gli esami che lì non ci sono purché qui Paola poi magari potrà ulteriormente intervenire e integrare purché questi esami siano assolutamente pertinenti con il percorso che state seguendo quindi se è un percorso di ingegneria e nell'ambito dell'ingegneria meccanica forse un esame di storia non so quanto possa essere accettato dalla commissione che farà poi la valutazione del piano di studi forse qualcuno piange vabbè mi spiace forse non so magari storia della tecnica ma ci sarebbe da capire e quindi occhio a questo ok siete liberi di personalizzarlo come volete sempre però che sempre tuttavia buttando un occhio ha una pertinenza che deve essere quantomeno più possibile diciamo ristretta all'ambito e al percorso di studi che state seguendo allora se Paola può andare avanti per favore grazie la slide successiva è quella relativa al meccanico formativo quindi a coloro che stanno seguendo questo questo curriculum allora come sapete il formativo rispetto a tutti gli altri punta fondamentalmente a diciamo produrre una figura che poi dovrebbe potrebbe se vuole accedere alla laurea magistrale quindi alla laurea di primo livello e in questo senso quindi il suggerimento che si può dare nella scelta degli esami è sempre quello di puntare almeno a inserire diciamo un esame che sia dell'area matematica o dell'area della fisica per irrobustire la propria preparazione e quindi poter proseguire diciamo in maniera più tranquilla il percorso di studi sulla specialistica quindi sulla laurea magistrale in modo tale che abbiate tutti gli strumenti necessari e magari anche un pochino più diciamo approfonditi per poter poi seguire diciamo gli argomenti e le tematiche che nella magistrale vi vengono vi vengono illustrate vi vengono fatte vedete poi sono tematiche sicuramente un pochino più complesse rispetto a quella della laurea triennale soprattutto in ambito modellistico quindi rafforzare diciamo tutti gli strumenti che riguardano la matematica e un pochino la fisica sono diciamo è un'indicazione di carattere generale da tenere in considerazione anche qui esiste la tabellina quindi voi potete andare a pescare gli esami da quella tabella e inserire quindi e costruire i vostri 12 CFU pescando da quella da quella da quell'insieme da quell'indicazione nel meccanico applicativo invece qui voi avete la possibilità di allora rispetto al formativo sapete che l'applicativo guarda anche un po' a uscire dal percorso dell'università e quindi a creare una figura che in qualche maniera sia anche già piuttosto spendibile un pochino più immediatamente spendibile sul mercato del lavoro rispetto invece al meccanico scientifico e al meccanico formativo quindi qui la personalizzazione del vostro piano di studi prevede nel caso in cui vogliate proseguire gli studi potete tranquillamente seguire parte delle indicazioni che vi ho già dato per il formativo e quindi inserire tra i 12 CFU a scelta un esame che sia relativo diciamo alla parte della matematica e della fisica se poi andate verso e siete orientati verso l'iscrizione alla laurea magistrale in meccanica allora scusate perché qui mi chiedono di ammettere gente ok allora si suggerisce di inserire anche l'esame di misure e meccaniche e collaudi se invece siete orientati alla diciamo alla specialistica in ingegneria energetica quindi la magistrale in ingegneria energetica si consiglia di inserire misure e collaudi però nei sistemi energetici un corso diciamo che contestualizza l'attività di misura e l'attività sperimentale nei due ambiti differenti che vi ho appena citato quindi questo è quanto questi sono consigli non è non sono obblighi tendenzialmente ok viceversa se avete idea di non andare verso la magistrale in meccanica o verso la magistrale in energetica il secondo il secondo esame i secondi 6 CFU perché poi sono moduli da 6 CFU per completare i 12 richiesti nel vostro piano di studi invece può andare verso un esame un pochino più specialistico che va a approfondire degli interessi che vi interessa spendere immediatamente nell'ambito del mondo del lavoro quindi ad esempio c'è un esame come CAD che può essere sicuramente un esame molto un corso molto importante specialmente al giorno d'oggi al fine di poter agevolmente poi entrare nel mondo del lavoro in cui al momento si utilizzano i CAD delle varie CAD di vari tipi quindi sapere usare un modellatore solido direi che è essenziale piuttosto che altri esami ad esempio della parte di energetica che vi consentono appunto di approfondire la parte più tecnica diciamo della preparazione appunto affinché possiate spendervi direttamente in maniera più immediata nel mercato del lavoro io spero di essere stato chiaro più o meno queste sono le indicazioni ripeto ancora una volta pescate dalla guida dello studente le informazioni che diceva professoressa Paoli perché la guida è fatta molto bene basta perderci cinque minuti del tempo che uno ha a disposizione ce l'avete cinque minuti ragazzi avete cinque minuti per fare tutto anche consultare il web da qualunque parte del mondo quindi spendete quei cinque minuti a leggere la guida a leggere le tabelline e vedrete che ora nella guida dello studente i programmi dei corsi non ci sono riportati però già dal titolo uno può capire se è interessato con un corso piuttosto che un altro dopodiché accedendo alla pagina web del corso sul sito della scuola potete approfondire anche il programma e quant'altro quindi mi raccomando fate una scelta ragionata e oculata perché alla fine poi ne va del vostro futuro sia che vogliate proseguire gli studi specializzandovi sia qualora foste interessati ad andare nel mondo del lavoro quindi sceglietevi le temate sulla base delle passioni che avete maturato in questi tre anni se ne avete maturato a qualcuna e niente bocca al lupo passo la parola agli altri delegati per per le indicazioni relativi agli altri percorsi ci sono io? sì allora abbiamo il percorso elettrica automazione grazie Federico allora dunque diciamo per quanto riguarda il percorso elettrica automazione diciamo come probabilmente avete anche sentito quando abbiamo un po' parlato negli open day si tratta di un percorso ibrido si tratta di un percorso dove voi venite formati come ingegneri meccanici questo è sicuro però vi portate dietro un bagaglio di alcune discipline che vengono da altri ambiti vengono portate dentro dalle ingegnerie dell'automazione dall'ingegneria robotica dall'ingegneria elettrica quindi diciamo avete una figura al terzo anno che deve essere formata come un ingegnere poliedrico un ingegnere che ha delle competenze in ambiti a volte anche abbastanza distanti tra di loro diciamo questa poliedricità come la otteniamo noi dobbiamo farvi uscire come seppur ingegneri junior come ingegneri e questo significa che dovete avere delle competenze al terzo anno che sono delle competenze tecniche in ambiti che sono quelli naturalmente del vostro percorso e quindi questo significa che se andiamo a vedere il terzo anno troviamo delle materie fortemente tecnico applicative come per l'appunto elettrotecnica industriale laboratori misure elettriche robotica industriale ora aver introdotto queste materie naturalmente a fianco di quelle che sono classiche dell'ingegneria meccanica al terzo anno quindi appunto le classiche costruzioni di macchine fluidodinamiche a scapito di cosa si fa? si fa a scapito di darvi delle nozioni avanzate negli ambiti matematico-informatici e questa naturalmente è una cosa che in qualche modo voi siete invitati a diciamo compensare andando a fare una scelta oculata dei 12 crediti a scelta sulla destra vi abbiamo riportato lo schemino dei crediti diciamo degli esami che sono suggeriti all'interno di questo percorso sono gli stessi esami sia per il percorso scusate per l'indirizzo formativo e per l'indirizzo applicativo però diciamo vanno visti in maniera differente adesso ci arriviamo a quell'applicativo che è un po' delicata la situazione allora per quanto riguarda il formativo gli ultimi tre esami sono in grigio perché sono già presenti all'interno del vostro percorso di studi i primi quattro sono gli esami che voi potete andare a inserire per andare un po' ad integrare la vostra formazione ora io diciamo l'invito di inserire questi esami è sia che voi vogliate proseguire nel vostro percorso di ingegneri quindi diciamo per avere delle basi scientifiche solide che vi permettano di affrontare gli argomenti più avanzati che sono presenti in un percorso magistrale ma a mio parere se voi arrivate al terzo anno decideste comunque di fermarvi per qualche motivo nei vostri studi un ingegnere junior che esce diciamo da un percorso come questo ha bisogno di una competenza matematica informatica proprio perché si tratta di una figura ibrida che si deve interfacciare con mondi diversi quindi con i mondi della meccanica dell'ingegneria elettrica dell'elettronica e l'unico linguaggio comune che troverete tra tutti quanti questi ingegneri è la matematica per cui avete bisogno di queste competenze quindi è un invito molto caldo a considerare questi esami che sono degli esami diciamo che sono un po' ecco un jolly per un ingegnere cioè avere queste conoscenze veramente ve le spendete in qualsiasi ambito dell'ingegneria ed essendo voi degli ingegneri ibridi arrivati a questo punto siete forse quelli che ne hanno più necessità ok diciamo questo per quanto riguarda il percorso formativo Paola mi puoi per favore passare alla slide successiva ti ringrazio ecco allora per quanto riguarda quello applicativo come avete diciamo visto nei percorsi applicativi abbiamo un un tirocinio da 12 CFU perché si tratta di un percorso che in qualche modo cerca di indirizzarvi un po' di più verso la realtà industriale verso la realtà aziendale ora questi 12 CFU di tirocinio come nascono? nascono andando un pochettino a rilassare alcuni dei diciamo degli esami che sono stati inseriti all'interno del terzo anno in particolar modo quello che vediamo è che quelli che prima erano due esami obbligatori ovvero elettrotecnica industriale e robotica industriale diventano obbligatori in forma alternata ovvero voi avete la possibilità di scegliere di seguire elettrotecnica industriale al primo semestre o robotica industriale al secondo semestre questa scelta voi in base a che cosa la andate a fare la potete andare a fare sulla base di una vostra di un vostro interesse nel momento nel quale decideste di non proseguire gli studi oppure se volete proseguire i vostri studi nella magistrale diciamo più naturale verso la quale si indirizza un percorso come questo che è quella di Robotics Automation and Electrical Engineering gli studi anche lì il percorso si splitta in ingegneria robotica automatica e in ingegneria elettrica già da qui diciamo avete una scelta che vi può essere utile successivamente l'altra cosa da notare è che non è più obbligatorio l'esame di misure elettriche ma è un esame che è caldamente consigliato nel momento nel quale voi voleste continuare con il vostro percorso magistrale quindi diciamo l'aspetto fondamentale qual è? se voi prendete un percorso di tipo applicativo non siete bloccati non è che non potete più andare a fare la magistrale dovete fare una scelta oculata all'interno degli esami opzionali naturalmente la scelta degli esami di carattere scientifico informatico continua a rimanere e se per qualche motivo voi voleste per vostro interesse seguire sia elettrotecnica industriale sia robotica industriale potete recuperarne uno all'interno degli esami opzionali quindi diciamo c'è un certo grado di riconfigurabilità all'interno del terzo anno del percorso applicativo ecco risottolineo quanto anticipato da Federico tutte quante queste informazioni le trovate scritte nella guida degli studenti questi sono screenshot della guida dello studente per i programmi di esame trovate tutto quanto nelle pagine personali dei docenti con tanto di syllabus programma del corso trovate tutto quanto all'interno quello che non trovate o che non capite scrivete al docente e il docente vi risponde e vi chiarisce fate questa cosa prima di consegnare il piano di studi ok perché dovete sapere che cosa andate a studiare cosa andate ad inserire perché il piano di studi non è diciamo una condanna a morte ma comunque è una cosa che vi vincola d'accordo quindi fate queste scelte a maniera uccurata scrivete anche a noi noi in qualche modo cerchiamo di ecco di indirizzarli ok io diciamo non ho non ho nient'altro da aggiungere sul percorso elettrico di automazione per esclusione penso di passare la parola a Daniele per il percorso energia grazie grazie Gabriele grazie a tutti buonasera a tutti anzi buon pomeriggio mi chiamo Daniele che sono delegato all'orientamento in il percorso energia il percorso energia che negli ultimi tempi diciamo così si è sdoppiato in percorso energia formativo e percorso energia applicativo un po' diciamo rendo spunto anche dalla meccanica che è dal percorso meccanico che è anche ancor più ramificato allora come avete visto se l'avete fatto se state a suo tempo a il percorso energia dell'ingegneria meccanica io tengo sempre a sottolineare che è quello di cosa ci occupiamo ci occupiamo sostanzialmente di sistemi di conversione dell'energia ci occupiamo delle fonti delle risorse di minuose delle politiche energetiche di tutto quello un po' di tanto di quello che sentite in tv diciamo ci occupiamo dei sistemi di conversione dell'energia come vi sarete accorti se siete al tempo di fare il piano di studi anche assaggiando un pochino degli insegnamenti del secondo anno per esempio e sostanzialmente il piano di studio non sto qui a ripetere quello che hanno detto i miei colleghi molto bene ma diciamo c'è una certa similitudine su diciamo la consistenza e i contenuti delle scelte quando si vada a fare il piano di studio nel senso che il percorso energia sia formativo sia applicativo prevede 12 di CFU a scelta libera diciamo opzionabili al terzo anno di corso tra questi le raccomandazioni solite sembra di essere ripetitivi però diciamo mentre è nei tempi anche quando l'ingegnere era il semplificatore per antonomasia delle questioni diciamo che le doveva risolvere le questioni semplificandole magari poi a distanza di anni ci si accorgeva che aveva fatto degli errori però in qualche modo aveva progettato qualcosa e aveva risolto dei problemi oggi il mondo sembra diciamo di essere qualunquisti per mare questo ma il mondo è molto più complesso e la complessità diciamo paradossalmente ma forse naturalmente ha fatto tornare molto molto di primaria importanza e vorrei dire di moda gli insegnamenti di base quindi gli insegnamenti di area matematica di area fisica perché sono molto utili per riuscire intanto a promettare problemi la pulmodellazione è sempre più complessa e sempre più intricata interdisciplinare e quindi chi meglio delle materie di base può fare da collante a queste chiamiamole così complessità sia perché nell'ottica se avete intenzione di percorrere di proseguire per un percorso magistrale in ingegneria energetica per esempio che sarebbe teoricamente lo sbocco naturale di questo percorso sicuramente ne troverete giovamento beneficio in quanto riuscirete a affrontare problemi più complessi che riguardano approfondimenti per esempio che offriamo in magistrale di energetica su tutte le energie rinnovabili che assaggerete lo dico diciamo perché lo conosco in quanto lo insegno alle energie rinnovabili del primo livello ma diciamo ne assaggerete la complessità in maniera molto più articolata mentre invece quello che farete al terzo anno con energie rinnovabili di base sarà si limiterà nella sua complessità e quindi questo per quanto riguarda il percorso energetico formativo se ne passi Paolo per favore al percorso applicativo invece il percorso applicativo come dice il termine è facciamo così forse un vicolino meno scientifico ma non è meno di utile tanto perché poi applicativo significa che un ingegnere è sempre diciamo cercare di prevedere con la modellazione quello che nella realtà succede e non solo poi avere anche la possibilità la capacità e la cultura direi cultura come conoscenza di poter poi verificare sul campo con la sperimentazione quello che la modellazione ad un certo livello è riuscita a prevedere quindi qui al solito diciamo al solito scelta su insegnamenti di carattere base tipo matematica fisica che vi mettono in grado di affrontare una multidisciplinarità di problematiche in maniera diciamo completa e comunque solida è suggerito anche consigliato di inserire insegnamenti che riguardano le misure e collaudi dei sistemi energetici un po' come aveva consigliato nei percorsi meccanici il collega rotini che sicuramente la cultura della sperimentazione delle misure nel senso in cui sapere che ne so cosa uscire da un percorso io direi in generale di ingegneria meccanica non sapendo come si misura che ne so una pressione una velocità di un flusso una coppia a un albero motore diciamo rappresenta se succede in uscita una grave mancanza culturale secondo me prima ancora che professionale poi ovviamente che professionale arriva immediatamente dopo per cui diciamo che nel percorso un pochino più applicativo io suggerisco in pieno l'inserimento di questi insegnamenti al solito semplicemente lo dico riassumendo ma non voglio ripetere tutto quello che hanno già rimarcato molto bene i miei colleghi quello che suggerisco è sempre di andare a vedere effettivamente cosa c'è nei piani di studio che sono fatti piuttosto bene guardate così per verificare che non dicessi cretinate sono andato a cliccare proprio cinque minuti fa per vedere se trovavo come un qualsiasi studente quello che cercavo e ho visto che si trova quindi vi consiglio sempre di guardare prima di fare le vostre scelte i contenuti delle discipline che scegliete al di là dei paradossi dello scegliere filosofia storia antica in un percorso di ingegneria o viceversa diciamo elettrotecnica in un percorso di lettere ma poi in realtà quando scegliete il vostro piano di studio andate a guardarci dentro cosa c'è nelle discipline che scegliete perché se scoprire che l'80% dei contenuti di quelle discipline non vi vanno al genio diciamo così contro quello che vi ho detto anche contraddicendo quello che vi abbiamo consigliato in tre figure quattro figure fino a pochi minuti fa fate le vostre scelte perché poi alla fine dovete andare a studiare quella roba lì per cui guardate bene sempre i contenuti delle discipline che scegliete seguendo chiaramente cercando di far tesoro dei consigli che abbiamo riportato qui e che sono di carattere generale e facciamo così culturale anche per quanto riguarda i reindirizzi base di ingegneria io mi fermerei lì per quanto riguarda il percorso energia e vi auguro buona scelta e soprattutto buon procedimento riprendo brevemente la parola io per ricordarvi appunto tutta una serie di riferimenti utili la guida dello studente che è stata citata più volte la pagina della scuola di ingegneria relativa ai piani di studio che contiene tutte le informazioni e in ultimo ma assolutamente una delle cose più importanti da fare il sillabo degli insegnamenti e qui trovate appunto riportate tutte le informazioni relative agli obiettivi formativi del corso ai contenuti del corso alla modalità con cui le conoscenze diciamo vengono poi validate dai docenti alle modalità con cui vengono fatte le lezioni quindi quello è diciamo uno strumento per voi per capire esattamente scegliendo quel dato insegnamento a cosa andate incontro quindi mi raccomando anche il sillabus va tenuto di conto non soltanto per gli esami a scelta libera ma anche per gli esami obbligatori perché vi aiuta a capire che cosa andrete a studiare adesso noi direi potrei forse anche interrompere la condivisione e potremmo metterci a disposizione se ci dovessero essere delle domande che dite ai miei colleghi ingegneri va bene io ci sono nel frattempo interrompo la registrazione sì 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 ok io ci sono grazie 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 grazie